Presenze triplicate in alberghi e locali pubblici, strade piene e tanti turisti, arrivati anche da fuori Abruzzo. La quindicesima edizione della settimana mozzartiana di Chieti ha ancora una volta colto nel segno, ma non è mancata qualche polemica per il contributo regionale che non è arrivato. Un successo straordinario di pubblico, chi ha potuto frequentarla ha avuto modo di godere di questo straordinario parterre che è la nostra città, offerta con gli artisti che in ogni salotto si sono esibiti in modo assolutamente pregevole. 30.000 persone abbiamo stimato le presenze all'interno dei salotti e molte di più sono quelle che hanno frequentato e girato per la nostra città nell'arco di tutta la settimana. È un'edizione straordinaria per questo e un'edizione straordinaria anche per i nomi che hanno potuto esibirsi sui nostri palcoscenici. Stiamo già pensando alla prossima settimana mozzartiana, quella che dovrà essere la settimana che incorronerà la sedicesima edizione come la settimana mozzartiana evento dell'intero Abruzzo.